e isotta chiese al suo amato tristano riapre questo mese il ponte buriano e lui a voce chiara rispose all'amata isotta mia cara ci vorrà un'altra annata i residenti avevano persino messo in rima la loro preoccupazione e sui social network avevano appunto pubblicato questo moderno dialogo tra tristano e isotta non ci sarà invece di che preoccuparsi rispetteremo la scadenza del 4 dicembre ponte buriano riaprirà al traffico in questa data così l'architetto pierangelo casini sentito telefonicamente dalla nostra redazione ci assicura appunto che il primo cantiere di restauro conservativo di ponte buriano chiuderà il prossimo 4 dicembre il cantiere del restauro dovrebbe poi riaprire nella prossima primavera non appena l'autorità di vaccino dalla rockei per poter lavorare sull'alveo dell'arno i tempi si sono allungati prosegue casini di circa un mese ma sotto la stretta sorveglianza della soprintendenza è stato fatto un grande lavoro le pietre che abbiamo utilizzato per ricostruire i rostri sono state addirittura costruite su misura del resto la bellezza e il valore artistico dell'opera merita impegno e dedizione insomma niente paura ci assicurano babbo natale potrà solcare con la sua slitta ponte buriano oggi più forte e più bello di prima in attesa che questo splendido ponte romanico torni definitivamente al suo antico splendore